Ho conosciuto un tale, un tale di Cesenatico, che voleva comprare il mare Adriatico. Lo voleva tutto suo, da Trieste in giù, quel bellissimo mare più verde che lui. Pagherò quello che costa e mi detteremo l'appunto tra Bari e San Benedetto del Tronco. Voglio essere il proprietario e l'unico padrone del mare, del spiagio, dei pesci e delle persone. Ma cosa ne vuol fare? Gli domandava la gente. Il mare si fa dunque, ma tutto sicuro per niente. Lo può guardare gratis da primavera, così, ma poi dove gli mette il bastimento, i delfini. Farò fare un cassaporte così grande che basterà per il mare e le sue parti, per i paesi e le città. Non avete capito che tipo sono il mio, ma il mondo non piace se non posso dire che non mi ha. Era un dito, così, quel che ti ho detto, saldita in una montagna, ma in fondo era un poveretto. Non sapeva quello, ma non costava nemmeno un quattro, non può avere tutto gratis, se gioca. Grazie a tutti. Grazie a tutti.